Meduse giganti sulla riva di Torrette, sorpresa e incredulità per i bagnanti che in questi giorni frequentano la spiaggia Fano Sud. Questo video è realizzato da un nostro reporter di strada, testimonia i tanti esemplari lungo la battigia. A spiegarci il fenomeno è il professore Corrado Piccinetti, direttore del laboratorio di biologia marina e pesca di Viala Adriatico. Professore, intanto che tipo di meduse sono? Queste meduse sono due grosse meduse che ci sono e sono le uniche due specie che ci sono. Uno è il polmone di mare che raggiunge 20 cm in circa come diametro ed è più o meno lunga quanto è larga. Un'altra invece che è un pochino più tozza, più cotilorizza, ma più o meno raggiunge le stesse dimensioni. La differenziazione c'è non tanto per il colore che è tutta la parte inferiore, tutte e due hanno una colorazione azzurra, ma è dalla parte superiore. Uno ha un cappello che è quasi liscio, l'altro ha un cappello che ha una specie di bombetta al centro, che è praticamente una cupolotta che gli risale sopra. Però sono dal punto di vista biologico molto simili. Sono innocue oppure sono urticanti? Diciamo, possono essere leggermente urticanti, ossia non danno mai fastidio, molto fastidio almeno perché il corpo, tutta la parte sopra non è assolutamente urticante. Quello che può essere leggermente urticante è la parte sotto, quella che loro utilizzano per acchiappare il cibo, perché devono mangiare. Quindi per mangiare tutte le meduse hanno un sistema di acule, piccoli acule, che vengono iniettati per catturare le prede e queste prede poi evidentemente si passano su un braccio di una persona, ma in genere non ci sono segnalazioni di grossi danni. Queste meduse, prosegue il professore, vivono circa 14-16 mesi e di solito la morta avviene poco dopo la riproduzione. Di certo la loro presenza è sinonimo di acque pulite. Quando arrivano ad essere spiaggiate alla fine della loro vita evidentemente loro sono degli organismi che non hanno una grandissima capacità di nuoto, anzi si spostano di qualche metro, qualche decina di metro in particolare tra il giorno e la notte. Di notte vengono verso la superficie e di giorno ritornano nella massa d'acqua. Vivono in mare aperto, quindi sono tipiche delle acque di mare aperto e sono portate dalle correnti. In genere sono molto più abbondanti del Mediterraneo orientale e poi quando siamo nel periodo più vicino all'estate, da maggio in poi, con le correnti che entrano in Adriatico dal Mediterraneo orientale sono trasportate, quindi ce ne sono di più in genere lungo le coste croate che non dalla parte italiana, ma essendo portate dalle correnti ogni tanto queste correnti fanno un piccolo giro di ritorno e quindi trasportano anche le meduse. Quindi io direi le meduse non le vedrei sempre come un pericolo, una minaccia, eccetera, come alle volte molti di noi sono abituati a vedere perché se fanno il bagno gli danno fastidio. Ma teniamo conto che la loro presenza è un indice validissimo di presenza di acque del largo. Sono acque che vengono dal mare aperto, quindi lontano dalle coste, lontano dalle fonti di inquinamento, lontano da qualunque scarico fluviale o industriale che sia. Quindi sono sinonimo di acqua pulita. Evidente, le acque pulite portano gli organismi delle acque pulite, che sono queste meduse.